Se all'inizio del mese siete già a corto di soldi, non dovete rinunciare a un buon televisore. Giusto in tempo per la Coppa del Mondo, nella nostra panoramica di test vi sveliamo dove potete trovare televisori a 500 euro. I nostri migliori consigli sono i televisori LG 43 o i 6309 e Grundig 55 VLX 6000 BP. Per quest'ultimo c'è persino un dispositivo di marca da 55 pollici tra cui scegliere. Per chi ha poco spazio, il Philips 32 PFS 6402-12 è uno Smart TV Full HD con Android e funzione Unbiligged. La panoramica del test mette in luce che i TV 4K Ultra HD con HDR sono arrivati nel mainstream a partire dai dispositivi da 43 pollici, e a prezzi accessibili. Consigli per TV fino a circa 500 euro vitali Crivo Schiff ad Obstok, TV a 500 euro nella panoramica dei test, raccomandazioni e consigli per l'acquisto Philips 32 PFS 6402-12 Smart TV con Unbiligged. Nel test dei televisori da 500 euro LG 43 o i 6309, Smart TV da 43 pollici. Nel test TV da 500 euro i Sense H43 N5705, TV 4K UHD con HDR a meno di 500 euro Medion Life X14911, TV UHD da 49 pollici. Al prezzo dell'offerta per la Coppa del Mondo nella panoramica dei test Grundig 55 VLX 6000 BP, TV da 55 pollici a meno di 500 euro. Nella panoramica del test TV a 500 euro nella panoramica dei test, raccomandazioni e consigli per l'acquisto. Un nuovo televisore deve essere scelto bene. L'offerta è come un tavolo da rovistaggio e i termini di marketing inventivi dei produttori di TV non facilitano la scelta. Nella nostra panoramica di test, vi mostriamo cosa potete e dovete aspettarvi per circa 500 euro. La Coppa del Mondo di Calcio 2018 ha messo in moto il mercato dei televisori. A vantaggio dei consumatori finali, il divario di prezzo che si sta verificando sta portando un salto tecnologico verso l'alto nella casa intelligente. Oggi un televisore dovrebbe soddisfare i seguenti criteri, 4K Ultra HD, la risoluzione 4K UHD con 3840 x 2160 pixel può essere considerata standard a partire da uno schermo con diagonale di 43 pollici. Per i televisori da 32 pollici, dovrebbe essere almeno un televisore Full HD. Il televisore LG 43 UI 6309 convince grazie all'Active HDR, compatibile con gli standard HDR 10 e HLG per i programmi broadcast. TV da 32 pollici, i televisori da 32 pollici hanno un'esistenza sempre più in ombra. Supportano una risoluzione fino a Full HD, 1920 x 1080 pixel, e l'ottimizzazione tecnica delle immagini può essere considerata matura. Le novità tecniche sono quindi solitamente riservate ai televisori più grandi con risoluzione UHD, che sono più richiesti. Con il modello Philips 32 PFS 6402-12, gli acquirenti di TV con spazio limitato possono comunque disporre di un dispositivo Smart TV, di marca ottimamente equipaggiato con Ambiligte Android. HDR, solo un anno fa, la tecnologia di ottimizzazione dell'immagine High Dynamic Range, HDR, era riservata ai TV Premium con risoluzione 4K Ultra HD. La tecnologia HDR migliora i valori di luminosità e contrasto. Ad eccezione del TV Philips, tutti i TV presentati nella nostra panoramica di test offrono l'ottimizzazione dell'immagine HDR. Tra questi, i televisori LG 43 o i6309, iSense H43 N5705, Median Life X14911 e Grundig 55 VLX 6000 BP. Oscuramento dello sfondo. Con l'oscuramento, le aree del display vengono oscurate da dietro tramite LED. In questo modo si ottengono livelli di nero e contrasti migliori. Tra i TV presenti nella panoramica, i televisori LG 43 o i6309 e Grundig 55 VLX 6000 BP sono in grado di effettuare rispettivamente la dimmerazione locale e quella micro. Rapporto qualità-prezzo. Due televisori spiccano nella nostra panoramica di test per il loro eccellente rapporto qualità-prezzo, LG 43 o i6309 con Active HDR e Grundig 55 VLX 6000 BP con i suoi 55 pollici. Philips 32 PFS 6402-12 Smart TV con Ambiliget nel test dei televisori da 500 euro. Smart TV Philips 32 PFS 6402-12 con effetto Ambiliget, Philips Amazon, chi abita in piccoli appartamenti conosce il problema, spesso. Non c'è abbastanza spazio per i televisori di grandi dimensioni sullo scaffale Ikea Ivar. La classe 32 pollici è spesso il formato standard per l'intrattenimento televisivo. Tuttavia, l'offerta di televisori da 32 pollici si sta riducendo, poiché la loro risoluzione di solito termina con il Full HD. Con il Philips 32 PFS 6402-12, gli amanti dei film e delle serie hanno a disposizione un apparecchio di marca con Ambiliget come punto di forza. Le luci attaccate ai lati della cornice forniscono una luce che si adatta al contenuto dello schermo e la emettono sulla parete, creando un'esperienza televisiva coinvolgente. Per ottenere questo risultato, il televisore calcola i valori di colore dall'immagine televisiva. Philips 32 PFS 6402-12 è in grado di stupire gli ospiti. Una volta provato l'effetto Ambiliget, non vorrete più perdervelo. Philips 32 PFS 6402-12 dispone anche del sistema operativo Android di Google, che lo rende un sofisticato TV Android. Il processore dual core integrato fa del suo meglio, ma un processore quad core sarebbe stato più moderno. La tecnologia Philips Pixel Plus HD garantisce valori di luminosità e contrasto ottimizzati, ad esempio per i contenuti in streaming o le immagini digitali. La dotazione di 4 porte HDMI e 3 porte USB è notevole. Chiunque sia alla ricerca di un televisore da 32 pollici con grandi dotazioni sarà entusiasta del Philips 32 PFS 6402-12. Panoramica dei test di Philips 32 PFS 6402-12, test importanti dello Smart TV Ambiliget da 32 pollici. Le caratteristiche speciali come Ambiliget e la buona dotazione del TV Philips 32 PFS 6402-12 sono apprezzate dagli utenti. I clienti che hanno acquistato lo Smart TV Philips 32 PFS 6402-12 su Amazon gli hanno assegnato un totale di 3,6 su 5 stelle. L'illuminazione Ambiliget è particolarmente apprezzata. Gli aggiornamenti software sono stati criticati, anche se probabilmente si tratta di problemi temporanei. L'82% dei clienti consiglierebbe lo Smart TV Philips 32 PFS 6402-12 ad altri, secondo un sondaggio sul sito web di Philips. Smart TV Philips 32 PFS 6402-12, confronto prezzi, offerte e disponibilità Il prezzo di vendita consigliato per lo Smart TV Philips 32 PFS 6402-12 da 32 pollici è di 529 euro. Il dispositivo Philips è fino a 180 euro più economico nei negozi online, al 13 giugno 2018.